ciao a tutti il nostro afro talent della settimana per la rubrica afro talent abbiamo deciso di presentarvi il presidente del ghana nana ado dankwa akufo ado ma perché il presidente del ghana perché è uno dei pochissimi presidenti in africa che sta proprio cambiando la narrativa da quando è stato eletto nel 2020 infatti è un presidente che di pelle sulla lingua non ce li dice le cose come stanno e fa proprio anche questa auto critica per l'africa per gli africani quindi abbiamo deciso di proporvi questo discorso del presidente ghaniano a una seduta con il presidente francese andiamo subito a parlare quindi cosa dice spero che i miei commenti che sto per fare non offenderà alcune persone che intorno a noi e non può più continuare a fare politica per noi stessi nel nostro paese nella nostra regione nel nostro continente sulla base di qualunque cosa sostenga il mondo occidentale o la francia o l'unione europea possono darci non funzionerà non ha funzionato e non funzionerà così la nostra responsabilità è di costruire un percorso che riguarda come possiamo sviluppare le nostre nazioni noi stessi non è giusto per un paese come il ghana 60 anni dopo l'indipendenza di avere ancora i suoi budget per la salute e l'istruzione finanziato sulla base della generosità e la carità dei nostri contribuenti europei ormai dovremo essere in grado di finanziarci la nostra base ha bisogno di noi stessi e se lo faremo guarderemo i prossimi 60 anni con un periodo di transizione un periodo in cui possiamo stare sui nostri stessi piedi la nostra prospettiva non è non è di essere ciò che decide il contribuente francese a che fare con qualunque surplus che essi hanno in francia sono i benvenuti certo sono apprezzati qualunque intervento del contribuente francese attraverso i loro governi che ci fanno sono sempre apprezzati non faremo un regalo a cavallo ma questo continente quindi il continente africano con tutto quello che è successo è ancora oggi il ripositorio di almeno il 30 per cento di minerali più importanti del mondo il continente con vasti terri fertile e alla popolazione più giovane di uno qualsiasi dei continenti nel mondo quindi all'energia e il dinamismo che ci vuole siamo ormai marinai questi giovani uomini che stanno mostrando così tanta resilienza e ingegnosità attraversando il sahara trovando la strada da percorre con stivali travalanti per attraversare il mediterraneo è quella energia che vogliamo avere qua quella energia che vogliamo che rimanga dentro i nostri paesi e avremo quella energia nei nostri paesi se iniziamo a costruire sistemi che raccontano i giovani del nostro paese che le loro speranze la loro opportunità sono giuste qui con noi la migrazione gli spostamenti delle persone sono state presentate in un modo che suggerisce che in qualche modo è nuovo fenomeno non c'è niente di nuovo al riguardo è un fenomeno vecchio come il mondo il movimento di persone è sempre stato collegato alla stessa cosa il fallimento di dove tu sei per offriti un'opportunità così la gente si sposta da qualche altra parte coloro tra di noi che hanno familiarità con gli europei del 19 secolo la storia saprete che è la più grande ondata di migrazioni nel 19 secolo l'europa l'ultima parte di esso arrivavano dall'irlanda dall'italia ondate e ondate di generazioni di italiani e gli irlandesi hanno lasciato il loro paese alla ricerca del paradiso americano perché l'irlanda non lavorava in italia non funzionava oggi non lo sentiamo più i giovani italiani sono in l'irlanda e noi vogliamo che i giovani africani rimangano in africa come i giovani italiani hanno fatto significa che dobbiamo allontanarci da questa mentalità di dipendenza questa mentalità su cosa può fare la francia per noi la francia farà tutto ciò che deve fare fino a se stessa e quando coincidono con il nostro obiettivo come dicono i francesi ma la nostra principale responsabilità come leader come cittadini e ciò che dobbiamo fare noi per fare crescere i nostri paesi quali sono le istituzioni che funzionano che permetteranno a noi di avere un buon governo una buona governance responsabile per garantire che i soldi che il nostro posto ha rimanga sul posto dei leader che vengono utilizzati per gli interessi dello stato e non per quelli dei leader la nostra preoccupazione dovrebbe essere con cosa dobbiamo fare in questo ventunesimo secolo per allontanare l'africa dall'essere beretto in mano e chiedendo aiuto beneficenza per le dispense africane continente quando guardi questo continente sono con risorse con le sue risorse dovrebbe dare denaro altri posti bene enorme perché enorme ricchezza in questo continente e non quando lo dico con il più grande di rispetto al presidente francese credo che la cooperazione della francia è qualcosa che io sono come ben sapete un forte amico della francia un film francofile si sente quindi che non ha la difficoltà con quello che sto parlando della nostra propulsione cosa dobbiamo fare per ottenere dai nostri paesi per lavorare in modo da poter creare le condizioni che permetterebbero ai nostri giovani persone di rinunciare a questo sforzo rischioso di giungere in europa non ci stanno andando perché lo vogliono perché non ci credono che di avere opportunità nei nostri paesi dovrebbe essere il nostro obiettivo e io credo che se cambiamo quella mentalità quella mentalità di dipendenza quella mentalità che è subordinato agli aiuti e alla carità lo vedremo nei decenni a venire la piena fioritura dell'africano i popoli avrebbero dovuto luogo e con la nuova personalità africana di chi si è parlata tanto durante il momento la nostra indipendenza diventerà reale e imminente spero di non di non sconvolgere o addirittura offendere alcuni dei miei amici che sono qua ma queste sono le mie convinzioni fortemente sostenute e c'è il motivo per quello adottato come lo slogan della mia presidenza del mio periodo e l'ufficio supremo del ghana che vogliamo costruire un ghana al di là degli aiuti un ghana che è indipendente che autosufficiente che è capace in piedi sulle proprie gambe e a costruire la sua vita basandosi su se stesso possiamo farcela e abbiamo la se abbiamo la mentalità corretta per farla questo era più o meno il discorso del presidente del ghana a questo incontro è venuto si nel 2000 e mi sembra nel 2017 con il presidente francese macro quindi ragazzi cosa ne dite ci ho provato è con la traduzione non è perfettissimo però fatemi sapere se voi gradite dell'intervento così per presentarvi gli afro talent queste persone che stanno cambiando la narrativa anche sul continente africano allora la prossima non dimenticate di abbonarvi e di condividere le nostre video e di lasciarci anche i vostri commenti allora alla prossima e together let's change the narrative ciao ragazzi grazie 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 grazie